Nonostante la Calabria riceva ingente risorse destinata alla salute dei cittadini e sebbene i calabresi in questi 12 anni di commissariamento abbiano continuato a finanziare copiosamente la sanità regionale con il versamento della extra aliquote IRAP e IRPEF, i medesimi cittadini non godono di servizi sanitari adeguati. Lo rileva la Corte dei Conti calabrese nella relazione discussa ieri nell'udienza per il giudizio di parifica del rendiconto 2021 della Regione Calabria. Drammatico il quadro sul sistema sanitario calabrese che è riuscito a produrre nuovi debiti anche nel periodo emergenziale della pandemia in cui ha avuto a disposizione notevoli risorse economiche. Per i magistrati della Corte dei Conti è sconfortante il risultato emerso dalle analisi della gestione dell'emergenza sanitaria. Non va meglio per quanto riguarda la spesa dei fondi pubblici e in particolare quelli europei. Il procuratore regionale della Corte dei Conti Romeo Ermen Gildo Palma ha spiegato che dall'analisi sullo Stato della Regione emergerebbe l'inadeguatezza della dotazione organica della struttura amministrativa regionale in idogna a fornire adeguata copertura amministrativa all'azione di governo attraverso la gestione delle complesse procedure in carico. In pratica vi sarebbe poco personale e nella maggior parte dei casi, anche scarsamente qualificato, insomma proprio all'interno della cittadella regionale, vi sarebbe il collo di bottiglia che occorre eliminare pena la perdita di opportunità di sviluppo non reperibili. Da parte sua il governatore Roberto Chiuto ha promesso riforme coraggiose che risolleveranno le sorti della Calabria.